Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Parto con una mano che è dire stupenda, è dire poco, secondo me. Ho tutto quello che mi serve, tranne la doppia, per il turno dopo. Però c'ho questo dedenne, che mi stuzzica abbastanza. Però c'ho una ultraball in mano. E sinceramente potrei temporeggiare, solo che lui è proprio erba. Quindi non me la sento di lasciare proprio che è il Deo in campo, a rischiare la morte. Quindi dai, diciamo che rischio un po'. Vediamo cosa riesco a prendere. Allora con Upa potrei prendere lo Shemin. Però ti fa occupare due posti. Oppure mettere Shemin in campo. No dai, mi serve l'upa. Mi serve per subirsi questi danni. Sì, alla fine sì. Penso che prenderò un solo Shemin. Sì, non servono due. Oppure alla fine magari mi potevo prendere due. Scartare anche... Ma, me la vediamo un po'. Qui ad esempio ho sbagliato. Perché c'avevo la pietra lieve. La potevo tranquillamente subito assegnare a Keldeo. E invece non l'ho fatto. Non fa niente. Adesso ritiro. Come detto prima, metto lui davanti. Metto il fuoco al nastro qua. Ho tutto per il prossimo turno. Quindi... Niente, passo così. Sono partito benissimo. Vediamo un po'. Ok, metto questo volume. Allora, il mio avversario vuole giocare col veleno. Quindi, tutto il mio trucco di avere il fuoco al nastro va a farsi benedire. Perché col veleno, alla fine col veleno subisco i danni. E basta. Però, 170 sono un po' pochi. Per lui. Quindi, boh, io non saprei. 170 va giù in un colpo. Mi fa tipo veleno. Che mi toglie 80. Cioè, tantissimo 80. Ok, allora io devo trovare, ad ogni costo, la ricerca sfida in mano mi piace. Però, voglio pescare il più possibile. Quindi, assolutamente, andrò a prendermi. Anzi no, posso fare così. Faccio, che scarto? No, questo. Scarto direttamente queste due. Sì. Così, ho due modi per pescare in questo turno. Sperando di trovare la doppia. Quindi, andiamo di Sirfetch. Forse potevo prendere Coco, però non mi ricordo se avevo l'energia elettro. Però va bene anche così. Alla fine pesco tantissimo. Pesco 5 adesso e 6 dopo. Per un totale di 11 carte. Che non sono per niente male. Di doppie ne ho quante ne voglio. Perfetto, ecco qua. E adesso faccio tutta la... Tutto il piano è andato a gonfissime vele. Allora io metterei anche questo. Se al turno dopo evolvo anche lui. Anche se non pesco con The Denny non fa niente. E inizio a fare male. 200. Ah, mi avvelino cosa? Ah, c'avevo il velino... Ah, mi avvelino. Questo non è buono. L'avvelinamento così. Ovviamente ragazzi, questo deck senza il fuoco al nastro perde tantissimo. No, purtroppo dovevo togliere almeno il campo pure. No, addirittura... Sì, smithod. L'energia acqua gli ha messo. Quindi, niente di che. Gli serviva almeno la doppia. Non capisco perché l'energia acqua. Lilia. Giocare Lilia con quattro carte in esteso non è buono. Che è l'equivalente di uno shaming. Quindi niente di che, per ora. Io potrei usare Guzma, tranquillamente. Per fare 200 dietro. Ok, 60 così. In più non mi avvelena. Quindi sì, farò proprio così. Allora quindi, innanzitutto metto la doppia qui. Ci siamo. Poi vado di Guzma su lui. Perfetto, così. Con le altre carte potrei fare l'evoluzione. Ma non la faccio adesso. Non ho nessuna fretta di farla. Quindi niente, non faccio niente con le altre carte. E faccio i 200. Semplice così. Lui comunque adesso mi deve attaccare. Ho anche 10 di vita, ma mi deve pur sempre attaccare. E inoltre, al prossimo turno, io in qualche modo potrei già vincere. Mi basta un cerca sfide. Ecco qua. Mi ha fatto così. Mi ha fatto semplicemente così. Però deve sempre passare. Ok, sì. Va bene, non è un gran problema per me. Potrei vincere già in questo turno. Questi deck col veleno, lo dico sempre, non mi convincono tanto a me, personalmente. Allora, l'energia. Allora, l'energia. Allora, facciamo così. Scarto le due, i due scambi. Sì, assolutamente. Scarto dei scambi. Allora, alla fine, una volta che ciò che è il deck, gli scambi non mi servono. Vado a prendere SirFetch. Allora, vediamo se ho i cerca sfide. Ne ho 3. Dai, vediamo un po' di trovarlo. In cerca sfide. Lo dovevo trovare a tutti i costi. Quindi vado così. E uso Deden. Semplicemente. Rimischiare le energie non mi va. Perché potrei far diventare più grande il mazzo. Ecco qui, il cerca sfide. Bene, ragazzi. Che dire. Ho vinto. Vi ho fatto vedere il deck, come funziona abbastanza forte. Non vi ho fatto vedere la questione del foc al nastro. Però comunque avete visto come in pochi turni sono riuscito a fare costantemente 200 danni. E non ho usato neanche l'altro Pokémon in panchina che ti fa fare il più 20. Se non sbagli di anzi. Va bene, ragazzi. Un bacione. Iscrivetevi. Commentate. E al prossimo video.